Il Pescara suda nella terza parte del ritiro, stavolta a Palena, ma la società è attivissima sul mercato e le novità non mancano. È praticamente fatta per Luca Forte e Riccardo Fiamozzi, due affaroni per il presidente Sebastiani perché dopo i problemi societari del Varese i due calciatori si sono trovati svincolati e il Delfino non ha dovuto tirare fuori un euro per portarli in rival adriatico, sosterrà solo gli oneri dei due ingaggi. Luca Forte, classe 94, è un attaccante, può adeguarsi sia al 4-3-3 sia ad un attacco classico a due. Il giocatore Sanchi con un suo gol anche è l'esonero dell'ex tecnico Baroni nella gara di Varese della penultima giornata dello scorso campionato facendo così un favore al suo nuovo tecnico Massimo Oddo. Fiamozzi, classe 93, è un terzino che dà il suo meglio in fase di spinta, giocatore di grande potenza e fisicità. Intanto prosegue il tira e molla con il Bari per Cristian Galano. L'accordo con il giocatore c'è, triennale da 200.000 euro a stagione. La società pugliese però continua a chiedere poco meno di un milione per il cartellino. Il Pescara offre 500.000 euro. L'affare però si può chiudere e le parti sono destinate ad avvicinarsi. Si continuano a seguire anche le piste Mancoso e Falcinelli. Intanto da ieri sono ufficiali le acquisizioni in prestito con diritto di riscatto e contro di riscatto di Valerio Overre dall'Udinese e di Alessandro Crescenzi dalla Roma. I due sono già al lavoro con i compagni a Palena. Peraltro l'arrivo di Fiamozzi e i recenti ritorni di Crescenzi e Zampano creano abbondanza nel settore degli esterni di difesa. Così si torna a parlare di una cessione di Andrea Rossi che di estimatori ne ha parecchi e potrebbe fare comodo al ripescato Brescia ma anche all'Entella destinata a prendere il posto del Catania dopo il processo sportivo. Negli ultimi giorni si registra un ritorno di Fiamma dell'Empoli per Ledian Memushai. Il Pescara lo lascerà andare solo di fronte ad un'offerta irrinunciabile. Intanto per il ritiro di Palena, oltre agli infortunati Aresti e Ciosic, non sono stati convocati quei giocatori che devono cercare sistemazioni altrove. I terzini Grillo e Scrugli, l'attaccante Barbuti, i centrocampisti Nilsen e Milicevic e il centrale Pesoli. Gli ultimi due sono entrati nel mirino dell'Aquila.